Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EvryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Oggi cominciamo parlandovi di Just Cause. Sembra infatti che il terzo capitolo della fortunata saga Sandbox potrebbe uscire nel 2015. Il sospetto arriva dal profilo LinkedIn di Christopher Sandberg, ossia il fondatore proprio di Avalanche Studios, gli sviluppatori che si sono sempre occupati del progetto. Sembra infatti che Christopher sia al lavoro su un nuovo gioco open world, legato ad una saga famosa e in uscita l'anno prossimo. Tutti gli indizi sembrano puntare in quella direzione, naturalmente vi terremo aggiornati in merito. E passiamo a Crytek e Deep Silver che hanno appena ufficializzato Onfront The Revolution. Il primo Onfront lo ricorderete era stato sviluppato dai Chaos Studios e pubblicato da THQ. Si trattava di uno sparatutto lineare e molto story driven. Qui complice anche lo sviluppo da parte di Crytek e UK, ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente diverso. Il gioco sarà un open world, permetterà di esplorare liberamente la città di Philadelphia e si svolge qualche anno dopo gli eventi del primo episodio, con gli Stati Uniti completamente dominati dalla Corea. Ci sarà quindi da organizzare una sorta di forza di resistenza con la possibilità di reclutare dei personaggi guidati dall'intelligenza artificiale. Naturalmente utilizzerà una versione aggiornata del CryEngine con ciclo giorno-notte e comprenderà anche una cooperativa online per quattro giocatori. Uscirà soltanto su Next Gen e PC e la data d'uscita non è stata ancora confermata. Per adesso c'è solo un generico 2015. E da un annuncio all'altro si passa a Microsoft e Playground Games, che hanno appena ufficializzato Forza Horizon 2. Il gioco uscirà questo autunno su Xbox 360 ed Xbox One e manterrà naturalmente la componente libera esplorazione. Si sposterà però nell'Europa meridionale, quindi possiamo sperare magari che venga inclusa anche qualche location italiana, ma per saperne di più dovremo aspettare l'E3 ormai imminente. Per quanto riguarda lo sviluppo delle due versioni, sarà disgiunto, ossia Playground si occuperà di quella per Xbox One utilizzando una versione modificata del motore di Forza Motorsport 5, mentre Sumo Digital si occuperà di quella Xbox 360 utilizzando lo stesso motore del predecessore. E ieri è stata proprio la giornata degli annunci. Warner Bros Games e NetherRealm Studios hanno infatti ufficializzato Mortal Kombat X. Il nuovo gioco uscirà su PC e piattaforme di nuova e vecchia generazione soltanto l'anno prossimo. Gli sviluppatori hanno confermato che il primo video di gameplay sarà mostrato proprio all'ormai imminente 3, quindi sapremo dirvi qualcosa di più preciso da Los Angeles. E passiamo a Konami che tramite un enigmatico messaggio su Facebook ha confermato il fatto che il 10 giugno, ossia durante l'imminente 3 2014, verrà svelato un nuovo trailer di Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Noi non vediamo l'ora di potervi dire qualcosa di più in merito e speriamo anche che durante l'evento Los Angelino venga finalmente svelata anche la data d'uscita del gioco che dovrebbe essere fissata al 2015. Red Dead Redemption è uno dei giochi che hanno segnato di più la precedente generazione e ci sono nel mondo tantissimi fan che vorrebbero davvero un seguito per questo gioco, noi compresi onestamente. L'utente insider Shinobi 602 ha affermato che un sequel è attualmente in fase di sviluppo e altre conferme sembrerebbero arrivare dal profilo di lavoro di un famoso stuntman che afferma di aver lavorato a delle sessioni di motion capture proprio per Red Dead Redemption 2. Sono naturalmente ancora voci di corridoio quindi non possiamo che aspettare conferme o smentite da parte di Rockstar. Dopo la chiusura di Rational Games sono moltissimi fan preoccupati per le sorti della saga di Bioshock. A rassicurare tutti ci pensa l'amministratore delegato di 2K Strauss Zelnick che afferma che il gioco è stato affidato a 2K Marin che già lo ricorderete si erano occupati del secondo capitolo così da garantirgli un futuro. Afferma inoltre che ci sono ancora moltissime parti della storia che possono essere esplorate quindi possiamo sperare in dei seguiti per il prossimo futuro. Come sicuramente ricorderete in una precedente puntata di questo TG avevamo parlato di Project Beast ossia un possibile erede della saga di Souls sviluppato da From Software. Adesso è emerso anche un piccolissimo video di gameplay dura appena 20 secondi e chiaramente non è stato pubblicato volutamente ma è trapelato. Questo tuttavia conferma che i lavori sono in corso magari potremmo saperne qualcosa di più proprio dalle conferenze dell'imminente 3. Rimanete sintonizzati. E passiamo a Telltale Games che ha finalmente confermato l'uscita su Xbox One e PlayStation 4 sia in versione digitale che retail delle prime due stagioni di The Walking Dead e della prima di The Wolf Among Us. Ha inoltre confermato l'uscita della versione retail della seconda stagione di The Walking Dead e della prima di The Wolf Among Us su Xbox 360 e PlayStation 3. Ancora mancano delle date ufficiali, probabilmente dovremo aspettare l'uscita di tutti gli episodi in digital delivery per averle. E passiamo adesso alle nostre immancabili top e flop news. Il top di questa settimana lo assegniamo all'annuncio di Plants vs Zombies Garden Warfare in arrivo su piattaforme PlayStation. Il gioco infatti arriverà il 4 settembre su PlayStation 3 e PlayStation 4 mantenendo tutte le caratteristiche di quello originale compresa la cooperativa in locale. Ricordiamo inoltre che chi effettuerà il preorder potrà avere dei bonus come dei costumi alternativi per piante e zombie dedicati ad alcuni dei brand più famosi di Sony. E il flop di questa settimana non possiamo invece non assegnarlo purtroppo a Watch Dogs. Nonostante le ottime vendite e nonostante il fatto che il gioco ci sia veramente piaciuto, Ubisoft sta avendo ancora un po' di problemi in questa prima fase di lancio. Molti utenti infatti riscontrano difficoltà di login con Uplay, pare ci sia un bug che può rovinare i salvataggi e ancora la versione PC soffre di diversi problemi di ottimizzazione. Speriamo davvero in un intervento tempestivo degli sviluppatori per rilasciare patch correttive e magari un aggiornamento di Uplay. E con quest'ultima notizia anche per oggi era tutto. Appuntamento al prossimo fine settimana con Videogame News. Ciao!